Le carovane del tempo, del poeta, dito Vigo Bocacciati. Buonasera a tutti. Le carovane del tempo, assolto nel silenzio, mi trovo in quel deserto che ben celato è dentro di me e qui vedo giungere le carovane del tempo. La prima carovana che si avvicina è la carovana del passato. A durarla è un vecchio, è il volto della saggezza. Al vecchio chiedo, cosa trasporti? Il vecchio risponde, trasporto i ricordi e i caffanni. Sono questi gli ingredienti del passato e ti saranno utili per capire. La seconda carovana che si avvicina è la carovana del presente. A durarla è un bambino, è il volto dell'amorezza. Al bambino domando, cosa trasporti? Il bambino risponde, trasporto i giochi e i sorrisi. Sono questi gli ingredienti del presente e ti saranno utili per essere felice. La terza carovana che si avvicina è la carovana del futuro. A durarla è una donna, è il volto dell'amore. Alla donna domando, cosa trasporti? La donna risponde, trasporto i sogni e le speranze. Sono questi gli ingredienti del futuro e ti saranno utili per non morire. Grazie. Grazie. Grazie.